Roberto Ferrari, l'orchestra di Rangone e per chiudere in bellezza dicevo questa magnifica serata in mezzo a tanti amici un himno all'amicizia, amici come voi vieni Marco, eccolo Ciccetti eccolo, prendi un microfono signori Angelo a volte poi dice ci sentiamo lo credi amico e invece non lo senti più ma l'amicizia è un sentimento serio che ha più valore quando siamo giù Marco, vai a volte poi si dice arrivederci ma è un saluto che vuole dire addio sempre verso il pubblico, ti devo insegnare qualcuno che si sposa e se ne va non lo vedi anche se stai in città tutti insieme amici come noi tutti è bello ritrovarsi se pure questa vita ti la calci poi ti avvicina come una canzone e ti cresce ancora dentro un'emozione amici come gente di paese che ancora crede al bene come noi qui toccano eh perché un'amicizia quando è vera lo senti sulla pelle sei sincera amici come noi come noi a volte se ti prende la tristezza a che tristezza pensa che c'è qualcuno accanto a te una vacca sulla spalla con la mano e la maledonia dolcemente se ne va Angelo! Il lavoro la famiglia non è tutto i figli sono una grande eredità sono i grossi problemi della vita e incontrarsi mi dà serenità amici come noi è bello ritrovarsi se pure questa vita ti da calci poi ti avvicina come una canzone e ti cresce ancora dentro un'emozione amici come gente di paese che ancora crede al bene come noi perché un'amicizia quando è vera lo senti sulla pelle se è sincera amici come noi tutti insieme amici come noi amici come noi Grazie.